Buonasera a tutti. Innanzitutto, e non sono parole di circostanza, voglio ringraziare coloro i quali hanno organizzato questa serata, questo incontro, questo dibattito, i attori Lunetta Savino, Luca Zingaretti, ma mi consentirete di dirvi che io sono ancora prima felice ed onorato di poter discutere di argomenti che tutti, molti, preferiscono di evitare con giornalisti di grande valore, quelli che sono qui sul palco tutti, che incarnano a mio avviso l'essenza più autentica del giornalismo d'inchiesta. Quello che costa tempo, costa fatica, comporta rischi di ogni tipo è la formazione di schiere di nemici agguerriti. Quello che osa spingersi nei meandri più oscuri del potere è di vicende criminali espressione anche del potere. È quello il giornalismo che aiuta la democrazia, forma le coscienze dei cittadini, previene la corruzione e smaschera le collusioni e le deviazioni istituzionali. E oggi la presentazione di questi due libri, Il patto sporco e il silenzio e Il patto, ci dà l'occasione di discutere di temi che sono oggetto di una mirata opera che va in due direzioni, due direzioni parallele ma complementari. La prima è il nascondimento dei fatti, il muro di gomma del silenzio su questi argomenti, su questo processo. La seconda, quando proprio si è costretti a parlarne, è la mistificazione degli stessi fatti. Nascondimento e mistificazione. Io credo che noi non possiamo assecondare questo andazzo, dobbiamo reagire, dobbiamo raccontare, dobbiamo spiegare quello che il sistema non vuole ricordare, spiegare e raccontare. E questo lo spirito per il quale ho accettato già nel 2015 la proposta di Saverio di scrivere il libro e adesso di fare una nuova edizione aggiornata. E venendo alle sollecitazioni di Silvia Arresta, bisognerebbe leggerla quella sentenza, bisognerebbe conoscere quelle motivazioni della sentenza di appello che come è stato ricordato ha condannato alcuni degli imputati del reato di minaccia al corpo politico dello Stato, i mafiosi e anche quei mafiosi che hanno fatto da intermediario come il dottore Cina e hanno assolto in secondo grado, a differenza di quanto era avvenuto in primo grado, gli uomini dello Stato. Bene, queste motivazioni sono state depositate il 6 agosto quando il paese era in pieno periodo feriale e casomai si occupava della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Quella soluzione sostiene sostanzialmente che non è provato il dolo di quegli imputati istituzionali, il dolo di voler assecondare il ricatto mafioso. Ma anche questa sentenza, come quella di primo grado, evidenzia come i fatti storici che avevamo posto alla base del nostro impianto accusatorio carico degli imputati istituzionali, sono certamente provati e quei fatti pesano come pietre sulla storia recente del nostro paese. I fatti sono lì e disegnano un contesto da fare tremare i polsi. Meglio allora ignorarli e fare finta che non esistano. Meglio parlare di clamorosa smentita dell'inchiesta sulla trattativa, meglio far credere che quei fatti fossero frutto dell'invenzione di pochi pubblici ministeri protagonisti e politicizzati. Ricordiamoli quei fatti, come li descrive una sentenza che non era certo appiattita sulla nostra richiesta, tanto che ha assolto alcuni degli imputati. Primo fatto accertato fu lo Stato, tramite quegli altri ufficiali dei carabinieri, a cercare Riina, subito dopo la strage di Capaci e non Cosa Nostra a cercare lo Stato per instaurare un dialogo. Secondo fatto, quella che viene definita improvvida iniziativa, secondo la Corte era finalizzata ad evitare altro sangue, ma in realtà, secondo la stessa Corte, ha rafforzato l'intento di organizzare altre stragi. Quando Riina capì che lo Stato lo cercava, gettò sul piatto della bilancia del ricatto in corso, della trattativa in corso, altra violenza, gettò nel panico il Paese. In questo senso si leggono anche le stragi del 93 che sfuggono allo schema tipico delle stragi di mafia, innanzitutto perché non sono in Sicilia, ma poi perché non colpiscono bersagli e soggetti predeterminati, ma hanno una finalità terroristica. Ancora, quello che non vi dicono, nella sentenza c'è scritto che venne instaurato un dialogo a distanza con l'ala moderata di Cosa Nostra per cercare di contrastare la fazione dei irriducibili. Nella sentenza si legge che questo fu il frutto di un tentativo di allearsi con un nemico per sconfiggerne uno più pericoloso. Io penso che prima ancora che giuridicamente non ritengo eticamente accettabile tutto ciò, allearsi con un nemico, cominciamolo a chiamare con nome e cognome, Bernardo Provenzano, per sconfiggerne uno più pericoloso. A me viene da pensare ai tanti che hanno dato la vita proprio per non cedere a compromessi di alcun tipo con i mafiosi. Penso anche che l'ala moderata era rappresentata da chi, come Bernardo Provenzano, nello stesso periodo di tempo, lo dicono sentenze passate in giudicato, ordinava omicidi e anche stragi, visto che è stato comunque condannato definitivamente per le stragi. Penso ancora, quando sento dire che una parte dello Stato si allea con una parte della mafia per sconfiggerle un'altra parte, penso con quale credibilità noi, Stato, noi istituzioni, possiamo auspicare, come facciamo ogni giorno, la collaborazione dei cittadini, per esempio dei commercianti, degli imprenditori sottoposti ad assursione. Quando lo Stato stesso, di fronte ad una offensiva della mafia, ha reagito cercando la mediazione e poi pretendiamo che il singolo cittadino si esponga con la denuncia. Ancora in quella sentenza, ve l'hanno detto in pochi, si dice che la mancata perquisizione del covo di Rina fu, leggo testualmente, un segnale di distensione di disponibilità lanciato all'interlocutore moderato con il quale si trattava. Altro che equivoco tra i Carabinieri e la Procura. Questo lo dice una sentenza di appello che assolve, per i motivi che vi ho detto, un segnale di distensione di disponibilità. Ancora è un crescendo incredibile. Quella sentenza stabilisce che negli anni successivi all'arresto di Rina, quegli stessi alti ufficiali del Rosso e dei Carabinieri favorirono la latitanza di Provenzano. Perché testualmente indicibili ragioni di interesse nazionale rendevano opportuno che Provenzano restasse in libertà per contrastare quelli ritenuti ancora più pericolosi. Ed è proprio in questo contesto favorire la latitanza di Provenzano che dobbiamo leggere la vicenda che Sigfrido Ranucci vi ha ricordato, l'incredibile vicenda dell'infiltrato Ilardo che fa arrestare decine di latitanti mafiosi, che porta i Carabinieri nel covo di Bernardo Provenzano, che porta per primo le lettere di Bernardo Provenzano agli altri mafiosi e che poi al momento dell'inizio della sua collaborazione viene ucciso. È questa l'importanza del libro che hanno scritto Sigfrido Ranucci e Nicola Biondo, raccontare già allora nel 2010 ciò che cominciava a emergere dalle nostre inchieste, raccontare ciò che era stato seppellito da una montagna di interessate amnesie. Quella è una vicenda tragica e clamorosa che oggi possiamo leggere come la rappresentazione più plastica della trattativa, del patto, tra i vertici del rosso di allora e Bernardo Provenzano. Come è stato ricordato di quella stagione degli anni proprio della trattativa e delle stragi è stato protagonista assoluto Matteo Messina Denaro, non solo Matteo Messina Denaro ma anche Matteo Messina Denaro. Il 16 gennaio è e resterà una data importante quella della sua cattura perché si è posta fine alla latitanza di un condannato definitivo per sette stragi e altri gravissimi delitti, si è posta fine alla latitanza di un vero capo di Cosa Nostra. Ma alcune considerazioni vanno fatte anche per attenuare dei toni trionfalistici, delle previsioni ottimistiche, dei messaggi rassicuranti che costituiscono certo un grave pericolo per il futuro della lotta alla mafia. La prima considerazione è oggettivamente vergognoso e non bisogna mai dimenticarlo, in questi giorni non ne sento più parlare tanto, che un latitante di questo spessore criminale rimanga tale per trent'anni. Trent'anni. Dal 12 aprile del 2006, dal giorno dopo dell'arresto di Bernardo Provenzano, tutte le migliori nostre forze di polizia erano concentrate sull'arresto di Matteo Messina Denaro. Trent'anni di latitanza. Ciò, non mi stancherò di ripeterlo, è una considerazione di tipo logico ma che a mio avviso non richiede neppure chissà quali competenze investigative o giudiziarie. Ciò non può essere avvenuto senza importanti coperture istituzionali, così come poi è stato accertato per la latitanza di Bernardo Provenzano. Non si può pensare che le coperture alla latitanza di Matteo Messina Denaro siano state fornite soltanto dai familiari o da qualche medico o da qualche infermiere compiacente. È un tema che va assolutamente approfondito anche in relazione ai tanti comportamenti sorprendenti di Matteo Messina Denaro negli ultimi anni, quelli che sono stati ricordati anche in ultimo da Andrea Purgatori, che si possono spiegare a mio avviso soltanto con un'alternativa. O lui contava sul livello di protezione e confidava sul livello di protezione talmente alto da indurlo a pensare che nessuno lo poteva arrestare, oppure si è fatto arrestare. Io credo che sia molto importante capire quello che è successo e non qualificare questi dubbi come frutto del solito complottismo, come abbiamo sentito dire molte volte in queste settimane, perché fantasie complottiste erano state definite, anche quelle relative alle vicende della mancata perquisizione del covo di Rino e alla latitanza di Provenzano, fantasie complottiste che però adesso vengono riconosciute come, tra virgolette, provate, in una sentenza della Corte d'Appello. E ancora, rispetto a questo tema che mi sollecitava la domanda di Silvia Resta, dell'arresto di Matteo Messina Danaro, non possiamo non ricordare anche quella che è stata la dichiarazione televisiva di quel soggetto, Baiardo, già condannato per favoreggiamento di Giuseppe Filippo Graviano. Guardate, voi ricordate tutti quelle dichiarazioni, quella previsione, diciamo anche la previsione della tempistica dell'arresto di Matteo Messina Danaro. Io credo che l'errore più grande sarebbe quello di minimizzare e archiviare la questione come frutto della fantasia di un truffatore e di un millantatore. Vabbè, è un truffatore, un millantatore, ha detto queste cose e ha azzeccato. Io credo che invece oggi, alla luce di quanto avvenuto e delle oggettive anomalie dell'arresto, è ancora più necessario approfondire la questione. Anche perché non è pensabile che Baiardo abbia fatto quelle dichiarazioni senza quantomeno ottenere il preventivo consenso dei fratelli Graviano. E anche perché, proprio alla luce di questa considerazione, quelle dichiarazioni assumono il significato di un segnale di ricatto lanciato allo Stato. Perché se consideriamo quello che è avvenuto negli ultimi anni, dobbiamo dire che è da tempo ormai che prima Giuseppe Graviano in persona, con le dichiarazioni processuali che ha reso in un processo Reggio Calabria e ora indirettamente Baiardo, fanno intendere di poter rivelare e anche dimostrare qualcosa di molto grave e preciso sui loro rapporti con l'onorevole Berlusconi. E questo è un vero e proprio ricatto, nemmeno troppo celato, che è ancora più preoccupante perché l'onorevole Berlusconi è parte importante della maggioranza di governo. E quindi il ricatto nei suoi confronti rischia di coinvolgere il governo. Ma d'altra parte, anche se il Paese non lo deve ricordare, non possiamo dimenticare quanto emerge dalla sentenza definitiva di condanna di Marcello Dell'Utri a proposito dei risalenti e molto duraturi rapporti di Silvio Berlusconi, allora imprenditore con le più potenti famiglie mafiose di Cosa Nostra. Quei fatti rappresentano una spada di Damocle sulla testa di un importante esponente politico, di un leader di una fazione politica, ma è una spada di Damocle che la politica preferisce fingere di ignorare, la politica tutta. Un'altra riflessione molto amara ma che faccio con grande convinzione. Oggi il sistema, con il pretesto della necessità delle riforme, sta realizzando un obiettivo storico dei sistemi criminali. Quello di non consentire di evitare comunque inchieste e processi, come quello sulla trattativa, uno tra i tanti, che hanno riguardato la gestione malata del potere ufficiale e anche del potere istituzionale. Ricordo che poco più di un anno fa, in occasione del discorso di insediamento del Presidente Mattarella, eletto per la seconda volta Capo dello Stato, discorso di insediamento in Parlamento, riunito in seduta comune, provai la sensazione quando una vera e propria standing ovation con applausi prolungati per minuti accolse le parole del Presidente sulla necessità di riformare la giustizia. Ricordo che ebbi una sensazione di riforma cartabbia, quello che in Parlamento si respirasse un clima di rivalza e di irregolamento di conti nei confronti della magistratura, anzi di una certa magistratura. Oggi, a distanza di più di un anno, quel mio timore è diventato certezza. La riforma cartabbia e le riforme più volte preannunciate dal Ministro Nordio vanno nella stessa direzione, che non è quella, come dicono, di volere rendere più efficiente e veloce la giustizia, ma quella di renderla sempre più debole e con le armi spuntate nei confronti delle manifestazioni criminali tipiche dei colletti bianchi. La riforma cartabbia ha aperto il varco. Le riforme di Nordio darebbero la spallata finale al sistema, con grave pregiudizio non solo per le vittime dei reati, ma per tutti i cittadini che ancora si aspettano verità e giustizia dalla magistratura. Gli esempi potrebbero essere tanti. Partiamo dalla riforma cartabbia, la improcedibilità, i processi che in appello e in Cassazione vanno letteralmente in fumo se non si concludono entro un periodo stabilito, un tempo stabilito. Il processo si estingue senza nessuna dichiarazione di colpevolezza di innocenza dell'imputato, senza nessun rispetto per le aspettative delle persone offese. Ancora, la previsione della necessità della querela di parte e quindi di un'esposizione da parte della persona offesa per procedere per reati anche molto gravi come il sequestro di persona o le lesioni aggravate. Ancora, lo stabilire che ogni anno il Parlamento debba addettare le linee direttive generali dei cosiddetti criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Il legislatore stabilisce quindi in quell'anno quali reati i procuratori devono perseguire prima degli altri e magari altri reati vengono perseguiti soltanto se restano tempo e forze. La legge bavaio, quella che impedisce sostanzialmente ai magistrati, anche quando ovviamente non rivelino notizie coperte da segreto, di spiegare, di raccontare, lo possono fare soltanto i procuratori capo ma soltanto con le forme della nota stampa o della conferenza stampa e spiegando quali sono le ragioni particolari che impongono la precisazione. Altri non possono parlare, potranno parlare imputati, parenti degli imputati, i loro difensori, tutto normale, sacrosanto, ma non chi ha svolto le indagini. E a questi signori che si riempiono la bocca di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, io vorrei soltanto ricordare che quando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino cominciarono a parlare pubblicamente anche con interviste televisive o alla carta stampata di quello che Tommaso Buscetta aveva spiegato circa l'esistenza, l'organizzazione di Cosa Nostra, se lo avessero fatto sotto il vigore della legge cartabbia sarebbero finiti essi stessi per primi sotto procedimento disciplinare. Per arrivare poi in questa linea di prosecuzione ideale cartabbia nordio alle annunciate riforme costituzionali sulla separazione delle carriere di pubblici ministeri e giudici e sulla abolizione del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Per non parlare poi, non vorrei scendere troppo nel dettaglio e nel particolare, della più volte annunciata riforma delle intercettazioni telefoniche e ambientali. ministro cartabbia e ministro nordio, governo Draghi e governo Meloni, per me si muovono nella stessa direzione e la direzione è quella di ridimensionare l'indipendenza della magistratura per potere controllare direttamente o indirettamente il suo operato. Un sistema di potere che ha la grave responsabilità di non applicare i principi costituzionali oggi intende blindarsi, vuole essere ora ed in futuro affrancato da ogni possibile controllo della magistratura e magari anche dei giornalisti d'inchiesta, dell'informazione. Vuole una magistratura collaterale, debole con i forti, asservita e governata dalle stesse logiche e dinamiche opportunistiche del potere politico ed economico. La riforma cartabbia e le riforme che il nuovo governo ha in cantiere disegnano una magistratura dominata dal carrierismo, dall'attenzione soltanto ai numeri e alle statistiche, da un atteggiamento burocratico che la tenga lontana dalle grandi inchieste sulla criminalità del potere. Che si lasci definitivamente alle spalle, perché questo vogliono, lasciarsi definitivamente alle spalle la stagione delle grandi inchieste su mafia e politica, la stagione dei maxiprocessi, delle indagini sulle stragi e sui mandanti esterni delle stragi. Io credo che opporsi con tutte le nostre forze a questa vera e propria restaurazione costituisca per noi un dovere e una battaglia di libertà e democrazia.